E non sai che ti perdi, King Diana Jones è uno dei film più interessanti di quel periodo lì, anni 90, anni 70, anni 80. Anche se ci sono gli ultimi che sono recentissimi. Dovessi vederli, ben bene. Ok, mi manca adesso Jungle Bash. Sì, sì, tutta la saga sicuramente non avrà vista mai. Vingi sconvincendo gli altri giocatori nel tempo concesso. 45 secondi. Non sono tanto, devo sparare cazzo buco. È difficile sopravvivere però, devo provare in qualche maniera. 45 secondi, raga. Posso che gli sparo un po' di nitro così. Ok. La strategia funziona sempre ragazzi Della girandola addosso a loro che hanno le casse in mano Prima o poi li guarderò Gli ultimi mi fanno cagare L'ultimo è quello con Shia La Leboeuf L'ho visto Mi sembra che sia l'ultimo o il penultimo Sì vabbè ma Indiana Jones Raga è un po' Bisogna avere anche Come dire stomaco nel guardare Certi film E come non lo so Il primo Tomb Raider La culla della vita Si sa che sono minchiate stratosferiche Per chi ama il tema Storico Prenditi quelli coltellati al cuore Attento alla furia dell'idolo Dove è l'idolo? Ah ecco qua arrivano le Nitro volanti Non durerò a lungo Non ci provo No 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 Pensavo di farci Troviamoci Ma anche al tempo Tu porti tutti dei giochi Io porto quelli storici Geografia e cinema Bravissimo Matteo Vieni ti ha dato una mano anche Checco Dai prendiamo Un po' di frutti Wumba Ho Ho Occhio! Occhio! Eh questa ragazzi è difficile, è difficile Se non gli tolgo tanta vita all'inizio questi Come hanno detto Gli elitro fanno troppo male Dai! Perfetto! L'ho piazzato all'angolino ragazzi L'ho preso nella zampetta E' morto Quello è con Jason, scherzo Io ci metto l'iniziativa Bravissimo Matteo Tutti li ho completati ragazzi Mi manca il suo Papu Pammel E si va poi al secondo livello Secondo mondo Madonna! Quando temo sto gioco ragazzi Si va di Papu Pammel Molto bene Avete superato le sfide che sono state preparate per voi qui nella stanza di Valzo Per passare alla prossima serie di partite dovete battere il potente Papu 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 Quante volte l'ho battuto a Papu Papu? Sconviggi Papu e i suoi servitori 3 2 1 Via 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 6 5 6 9 9 10 10 10 11 10 12 14 15 15 18 16 16 Ah l'ultimo pezzo se l'è fregato da solo Addio papu papu Parlo alle persone della live Vi piacciono le pinole Cioè le pillole di storia Posso andare adesso Sicuramente non posso fare altre sfide con lui Ok non ci sono gemme nei cristalli Possiamo andare nella stanza di balzo La warp zone 2 Quindi saliamo di livello Sono poco loquaci Matteo Seconda Seconda warp zone Salviamo Si inizia con beach ball E poi beach ball Siamo sotto l'acqua Underwater ball Spero più delle domande So gente fatevi sentire Per vincere devi stare in campo per... Vabbè ho stesso identico praticamente a livello precedente 3, 2, 1, via Vero poi c'è quello con la calamita Ah questo è con la calamita Ok Questa è bello Questa è bello Fino a trebili Poi calamizzare Allora C 13 Grazie a tutti. Doppia. Questo è più lento rispetto a quello di prima. Bastato, me l'ho fatto. La calamita fa rallentare un po' il gioco. Dai, spara, spara. Bastato, me l'ha fatta perdere. L'ho aspettato troppo tempo. No! Vabbè, ormai sono tutti fatti fuori. Mi hai messo male, Cortex. E basta soltanto una. E mi ripagherai gli sforzi. Fuori. Ok, utente nuovo. Ci vediamo alla prossima. Ciao, bello. Se riesci passa anche più tardi. Tanto fino alle 6 noi siamo qui. Ciao, bello. 2, 1, via. Maledetto. Però i punti sono accorciati. Non so più 15, sono 12. Dai, spara, spara, spara. Fame di un corte. Spara qui, dai, vieni qui. Vieni qui. Non entrano. C'è Kong che ancora ce l'ha tutti i degri, Pintenchi. Eh, ho messo maluccio, eh. Non va così bene come pensate. Ma non ho quattro ne ha. Tutte te da sempre. Povero Cortex, ragazzi. Con un solo punto. È morto, Cortex. Il problema è un... Averlo di fronte, ragazzi. Non avere l'avversario di fronte è un po' una calamità. Che di rimbalzo arrivano tutti a me. Infatti, di solito, Cortex me lo tengo per ultimo. Guardate, ormai è ridotto lui. Gli manco un solo colpo. Morto. Sono alla pari con Kong. Una maledetta, dai. Decca di tutte queste cifere qua. Madonna, raga. Perderla così non mi va proprio. No, autogol. Per la prima volta autogol di Nikron. Maledizione, maledizione. Due, uno, via. Eh, ma siamo lì, ragazzi. Come cazzo ha fatto a evitarle? Oh, sono quello più merdoso. Insieme a Kong. Cioè, Rillauru ne ha 11, ragazzi. No, vabbè, è impossibile. Non so come ho... Eh, vabbè. Troppo di vario. Eh, quasi una pippa. Oh, questo è difficile. Per forzare la vittoria. Remix. Questo è difficile. Questo... Non è semplice come gli altri. Qua devi mantenere un po' il vantaggio all'inizio. Altrimenti ti fottono. Quattro di Agency. È una misstrazione... Oh, non è giro. È una misstrazione... Oltre... È un po' l'fattore. Canges actions... Già praticamente l'ho massacrato Solo lui sa come è entrata quella lì Vabbè però Vabbè Doppia per corte si fa un culo Quattro contro nove Devo fare un po' di carambole Dai uno eh Uno È entrata È entrata È entrata Crash vince Questo è difficile raga Forse faccio appena a vincere il trofeo Tre Due Uno Via Grazie Ben Ci vediamo alla prossima Allora Ciao Grazie per essere stato qui con noi Grazie per essere Grande portes Dai sta resistendo Noi a frattempo distruggimi gli altri Mi fai un favore Mi fai un favore So Mi fai un favore Noi a frattempo distruggimi gli altri Un favore Mi fai una Di Buon Mi fai un favore Buona ragazza